E l'altra cosa, secondo me, è che c'è bisogno di riportare il cuore nella vita. Noi ormai abbiamo messo la ragione alla testa dappertutto, credendo che con la testa di capire la realtà. Secondo me la realtà non si capisce con la testa, si capisce con l'intuito e appunto riportando il cuore nell'analisi di tutto. E questo secondo me dà spazio ad un giornalismo nuovo, certamente non retrogado. Grandi civiltà che se ne stavano tranquille. Arriviamo noi e vogliamo imporre la nostra società, vogliamo portare la nostra civiltà. Questi sono incivili. Mettiamo le mutande agli ottentotti. Penso agli aborigini che venivano in Australia con una loro per noi oggi incomprensibile. Noi sappiamo neanche più cos'è civiltà. Una civiltà che aveva modi di comunicare al di là di quello che noi conosciamo. Le parole. Per esempio, quando moriva un grande capo aborigeno da qualche parte, la gente già partiva per il funerale perché sapeva che era morto. Sentiva che era morto, così arrivava in tempo per il funerale. Siamo noi che non vogliamo sentire che c'è altro al di là della materia. Tutto il mondo di oggi si fonda sulla materia. Se ci rimettiamo a pensare, ciò di cui abbiamo veramente bisogno non è quello dell'economia di oggi. Non dà felicità alla gente. Io trovo che c'è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice. Ed è contento. Accontentarsi. Uno che si accontenta è un uomo felice.